Un film visto al contrario Verso la scintilla, cerchio medianico K, attraverso Marco, a cura di Vubi Domanda Come avverrà il riassorbimento del cosmo? Possiamo immaginarlo come un film visto al contrario? O in che modo? Guida psichica L'emanazione come il riassorbimento fa parte di una realtà che non è quella oggettiva Infatti l'assoluto, che è l'unica realtà, non viene riassorbito né viene emanato Così queste due parole sono da prendersi solo figurativamente Non essendo il manifestato un evento oggettivo Ma veniamo a ciò che accadrà nei fotogrammi fisici Vedendo questi come verità di passaggio Valida solo per darvi l'idea di qualcosa che scorra per motivi didattici Il riassorbimento, così come il fenomeno di emanazione È da vedersi come un palpito della vita assoluta che tutto in sé comprende, trascende Il riassorbimento è in natura dell'uno, pur non essendo l'uno Così come tutto è uno, pur non essendo l'uno, nessuna cosa in particolare Il riassorbimento è dunque una caratteristica della materia Dei piani di esistenza fino allo spirituale compreso Avverrà con un ricondursi della materia stessa Intorno a piani più sottili Questa dunque dall'intimo di sé stessa Sarà disgregata verso l'esterno Per poi, dopo la notte di Brahma Essere riemanata Ciò avverrà attraverso a spiriti elementari Sovrani superiori Esistenti nel piano Tau Il quale verrà esso stesso Riassorbito Ma come sapete Della legge rimane Nell'emanazione successiva Lo spirito Cioè il significato Il succo Di quella precedente Che evolverà la successiva Ciò non significa però Che Dio Di emanazione in emanazione Si accresca Perché Dio è oltre lo spirito E lo spirito è Conseguentemente Un'illusione Pur essendo la radice Del reale Dio Sì Sì Grazie a tutti